Amici del software libro open source, benvenuti o bentornati in questa 170esima puntata del podcast di Marcos Box. Puntata, anche in questo caso, video, come potete vedere dal mio faccino, se mi seguite su YouTube. Questa sarà una puntata davvero brevissima, perché questa settimana non ho postato tantissime notizie sul blog, ho postato soltanto 4 articoli, a dire il vero, e uno di questi è un articolo che, nella lettura del quale potete capire perché non ho postato tanti articoli sul blog. Perché questa settimana mi ha visto un po' disintossicarmi dai social, dall'internet e quant'altro. Perché? Perché ve lo faccio vedere subito. Perché? Perché ho pubblicato un articolo dal titolo Diario di un nerd senza smartphone. Mi si è rotto lo smartphone. Il mio Xiaomi, che potete vedere qui in tutta la sua bruttezza, era un signor telefono, funzionava, a parte i bug dei Xiaomi che io, sapete, mi lamentavo sempre, però diciamo che ha funzionato a dovere per più di tre anni, tra alti e bassi dei soliti bug della Xiaomi, che sapete benissimo, ripeto, che non ho mai mancato di sottolineare. Che cosa è successa domenica scorsa? Domenica scorsa il mio Xiaomi, mi dice Light, ha deciso di andare in pensione. Ha iniziato nel pomeriggio ad andare, prima a scaricarsi la batteria di tipo il 30% nei giro di dieci minuti, poi è andato in the boot loop, poi si è ripreso durante la giornata, poi alla fine ha deciso di dare forfè. Indagando poi nei giorni successivi sono riuscito a scoprire che il telefonino andava in boot loop, ogni qualvolta io andavo a inserire la sim della telefonica. Ho provato anche a formattare, ho provato in tutte le maniere, ripristini e quant'altro, però il problema persiste, quindi molto probabilmente è un danno alla scheda madre. Attualmente sono riuscito a far funzionare il telefonino senza sim, però ogni tanto gli piglia la botta e decide di riavviarsi e andare un'altra volta in boot loop. Per esempio stamattina è andato in boot loop verso le 9 del mattino, più o meno perché è quell'oraio che ho visto che è iniziato a riavviarsi, cioè che mi sono accorto che il display andava spegnendosi e riaccendendosi, e si è ripigliato verso mezzogiorno e mezza, luna circa. E vabbè, oh, morning christianic improvviso perché non deve morire un smartphone così di morte improvvisa. Vabbè, a parte questa parte funeria è che potevo anche risparmiarmi in effetti perché sono oggetti, gli oggetti sono fatti per essere utilizzati. Se si rompono andassero a quel paese, cioè possiamo essere dispiaciuti per un oggetto che si rompe? No, magari ci eravamo affezionati se era anche la tazza che ci aveva regalato il nonno d'orologio del nonno, ma uno smartphone no, è un oggetto, anzi è uno strumento, e quindi come tale se si va a quel paese. Non ce ne frega niente. Ma torniamo a noi, torniamo all'esperienziale che ho tratto da questa avventura. Vi ho raccontato che cosa è successo questa settimana in questo post, vi ho raccontato di me che sono tornato a un feature phone, sono tornato a un Nokia che potete vedere, ho pubblicato le immagini sul blog, e ho vissuto una settimana con questo telefonino. E ci vivrò ancora qualche altro paio di giorni perché, spoiler, alla fine ho dovuto acquistare un nuovo smartphone che arriverà nei prossimi giorni, quindi ancora per un altro due o tre giorni, a seconda di Amazon se si decide a consegnarmi un ripacco entro venerdì, perché mi porta la spedizione in consegna entro venerdì, e dicevo, quindi dovrò utilizzare ancora il feature phone per qualche altro giorno. E dicevo, in questo esperienziale vi racconto quali sono i problemi a cui puoi andare incontro una persona che è abituata ad utilizzare i smartphone per poter gestire la sua vita lavorativa e sociale, ma anche la vita di tutti i giorni per quanto riguarda gli acquisti, perché io per esempio sono un tipo che sono abituato a pagare ormai da diverso tempo con le NFC, avvicino il telefonino e pago. E in questo periodo sono stato, diciamo così, costretto a tirare fuori la carta per poter pagare. Tra parlando se non mi ricordavo nemmeno il PIN, quindi ho fatto un sacco di volte, ho sudato freddo per non superare la cifra minima, perché sapete che superato una certa cifra si deve mettere il PIN, e io in quei giorni andavo un po' in panico, dicevo, no, questo non lo posso prendere perché se no supero la cosa, perché non mi ricordo il PIN con il telefonino, cioè avevo l'impronta e quindi pagavo con l'impronta anche se superavo l'importo. Ci sono stati problemi lavorativi, perché io faccio un lavoro nel quale mi devo rapportare con diversi colleghi, ho il telefono a quello, manda il messaggio a quello, manda la mail a quell'altro, ho il ragazzo, ho mandato il messaggio a Whatsapp con delle foto che devi scaricare, è stato un bel po' problematico stare lì a lavoro senza smartphone, senza poter avere, diciamo così, lavorare a contatto con i colleghi. Ho iniziato ad avere problemi di memoria in questi giorni, perché la memoria ha iniziato a fare cidecca, oramai abituato ad effettuare il login tramite le varie applicazioni, non mi ricordavo nemmeno più le password di alcuni account, quindi è stato un problema, è stato poi anche un problema, quello che mi ha portato ad avere una piccola crisi, che mi ha spinto a cercare di, diciamo così, ripristinare, riportare in vita i vecchi smartphone che prevenevo in casa. Nella fattispecie ho ritrovato il vecchio Nexus 4 che ho formattato, perché aveva Lineage OS 8, l'ho ripristinato la versione originale, l'ultima versione stabile della ROM per Nexus 4, e ho fatto anche una cazzata in quel caso, perché ripristinando la versione originale mi sono accorto che io avevo installato una custom ROM che mi andava a risolvere un problema di mancanza di, diciamo così, reattività di una parte del touch, e ho installato la versione, quella stock di Android, la 4.1.4, che praticamente ho reso adesso inutilizzabile in Nexus, perché non riesco nemmeno a logarmi con l'account di Google, perché non mi funziona un'area dello schermo, vabbè. Quindi vi lascio immaginare anche il nervoso che mi è venuto in quei giorni, finalmente ero riuscito a ripristinare il telefonino, poi mi sono accorto che ho fatto una cazzata. Vabbè, andatevi a leggere tutte quante le mie disavventure lavorative in corso di questa ultima settimana. Come vi dicevo, ho acquistato alla fine uno smartphone che mi deve arrivare, e da tutta questa esperienza, che cosa ne ho tratto? Perché bisogna sempre trarre un insegnamento da qualsiasi esperienza. Beh, ho capito che non posso vivere attualmente senza uno smartphone per via del tipo di lavoro che faccio, perché controllare, che ne so, Whatsapp, Telegram, E-mail, due o tre volte al giorno non mi basta, perché poi ho la necessità di rispondere anche per quanto riguarda roba di lavoro. Quindi alla fine mi sono costretto ad avere comunque uno smartphone a portata di mano. Però ho capito una cosa, ho capito che posso vivere però senza social sui telefonini. E quindi da qui la decisione, che ho postato anche sulle pagine del blog, non installerò sul prossimo smartphone applicazioni di Facebook, Instagram, X e tutti quanti similari. Mi limiterò a utilizzare la versione web quando necessario, ma non ristalerò più, quindi nessuna più notifica, nessuna distrazione, perché sono soltanto distrazioni avere sempre i portati in mobilità certe applicazioni, perché poi magari stai lì che ti viene, quando stai nel momento di noio e che non sai che fare, non so, vai a sprucciare Facebook per vedere post di fesserie, di vite, di persone che magari non conosci nemmeno, perché accumuli amici nel corso degli anni, che però amici non sono perché non li segui, cioè non li vedi manco da vivo, quindi che te ne frega a te. Instagram, Instagram è diventato un, non so se l'avete visto recentemente, è diventato proprio una finzione continua, perché ci sono le storie di tutti quanti, che si sono sembrati tutti quanti belli, felici, allegri, e ti portano a pensare che magari la tua vita fa schifo, ma quando in realtà non è che la tua vita fa schifo, è che la gente cerca di ostentare su Facebook una vita che non ha, tutte le cose belle, ma magari anche loro sono tristi, soli e quant'altro, ma cercano di apparire diversamente su Instagram, su Facebook, su Trez, la nuova applicazione lanciata da Facebook, dicevo che l'unico social che più o meno è, tra virgolette, un po' più vero, anche se poi, so che già per questa cosa mi inimicherò molti di voi all'ascolto, per me l'unico social che potrebbe essere considerato un po' più vero, e dicevo è X, Twitter, perché alla fine sono messaggi brevi che uno scambia, sì, ci sono molte persone che hanno idee un po' estreme su Twitter, però Twitter ti costringe anche a rapportarti con idee che non sono in linea con il tuo pensiero, e quindi può nascere una discussione che può essere una discussione, diciamo così, aggressiva, perché uno sta sulla difensiva e dice il mio pensiero è migliore del tuo, o magari può essere anche un confrontarsi per cercare di capire dove uno sbaglia nel pensiero, perché magari vedi come reagiscono anche gli altri, mentre io trovo che Facebook, Instagram e Trezza alla fine sono dei social che ti creano delle bolle, lo sapete anche voi, non lo dico soltanto io, lo dicono anche gli esperti del settore, sono stati costruiti in questa maniera, e ti devono creare la tua bolle, perché ti devono intrattenere, ti devono far sentire, diciamo così, spronare, a scorrere sempre di più i contenuti e quant'altro, come TikTok e quant'altro, vabbè, quindi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa, sapete bene che io poi anche in passato ho fatto un'altra scelta, un'altra scelta che, vi faccio vedere, io sono tornato ai vecchi orologi, allora sono sempre stato un appassionato ai vecchi orologi, però qualche posto fa, qualche tempo fa, vi ho anche fatto un articolo, nel quale vi dicevo che ero tornato ai vecchi orologi, in pianta stabile, e vi ho abbandonato anche gli smartwatch, quindi mi sono allontanato anche in questo caso, dalle notifiche continue, che ti arrivano anche sullo smartwatch, dovremmo disintossicarci tutti quanti dal web, in questa maniera, dovremmo vivere un po' le cose più semplici, incontrarci con le persone, se possiamo, ma se non possiamo per via della distanza, o per via degli impegni, anche la telefonata, la telefonata allunga la vita, diceva un vecchio sport, non so se vi ricordate, e fatele le telefonate, mandatevi sempre questi cacchio di messaggini, oppure mandatevi i vocali da 10 minuti, madonna mia, quando sto odiando i vocali, questa è un'altra cosa che ho rivalutato in questi giorni, cioè vabbè, ero sempre odiato, però in questi giorni mi sono reso conto che proprio hanno una perdita di tempo assurda, gente che ti mandava vocali di 5-6 minuti, poi magari ti mandava vocali concatenati, se mi devi dire qualche cosa, fammi la telefonata, io ti rispondo, ci diciamo quello che ci dobbiamo dire, e basta, cioè, vivete, vivete diversamente, basta questi social. L'unico social che dovete seguire è Telegram, nel canale di Marcosbox, Marcosbox, no scherzo, quello ha un fine, diciamo, diverso, perché lì magari siamo accomunati dalla nostra passione per Linux, e ci possiamo chiacchierare, scambiarci informazioni e quant'altro, però dicevo, questi social tipo Facebook, Twitter, anzi no, Facebook, Instagram, compagnia cantante, accontanate, utilizzate le applicazioni di messaggistica, Whatsapp e Telegram, il giusto, e vedete che, ne vivete bene. Vabbè, a parte questa paternale da Boomer, passiamo adesso, passiamo adesso ad altri argomenti, e passiamo ad una notizia riguardante il rilascio di GIMP, perché c'è stato il rilascio di GIMP 2.99.18, che è l'ultima anteprima in sviluppo, prima del rilascio della versione finale di GIMP 3.0, quindi ormai manca poco, l'abbiamo capito, quali sono le novità di questa versione in sviluppo di GIMP, beh, la principale novità di questa nuova versione di GIMP, riguarda, i lavori che è stato fatto dagli sviluppatori, per quanto riguarda il progetto, denominato Space Invasion, che altro non è, che il nome in codice del progetto per rendere GIMP, è più corretto per quanto riguarda la gestione dei colori, gli sviluppatori hanno lavorato, ormai ci lavorano da anni a questa funzionalità, e finalmente sta approdando. E purtroppo c'è una nota negativa, questa versione in sviluppo potrebbe essere notevolmente buggata, proprio per l'arrivo delle ultime fasi finali del progetto Space Invasion, quindi attenzione se trovate dei bug un po' più spinti. Se volete vivere sentita bug, installate il ramo stabile e ignorate questa versione in sviluppo. Lasciatela a chi vuole sperimentare. Le altre novità poi riguardano degli algoritmi di colori migliorati, nuove opzioni di snapping, miglioramenti nel supporto a diversi tipi di file, fra i quali anche il formato PSD, e una implementazione iniziale dell'editing non distruttiva, e questa è una cosa che è anche una carenza di GIMP che finalmente stanno iniziando a metterci una pezza, e speriamo che arrivi al più presto, perché è una delle funzionalità premium che gli utenti, quelli avanzati, cercano da anni. Passiamo poi alle notizie riguardanti desktop environment e parliamo del rilascio imminente, perché manca ormai praticamente un paio di mesi, di LXQT 2.0. la nuova versione stabile, la nuova major release del desktop environment basato sull'EQT, però un desktop environment basato sull'EQT più leggero, che può far concorrenza ai vari XFCE o, che ne so, matte desktop. Abbiamo una data di rilascio, quella che è stata annunciata dagli sviluppatori, e dovrebbe arrivare LXQT 2.0 il prossimo mese di aprile. Quindi manca un paio di mesi. Quali sono le novità di questa nuova versione? che ci aspettano un nuovo menu applicazioni, che potete vedere dagli screenshot che ho postato sul blog, che ha un design migliorato, la ricerca delle applicazioni, la gestione delle applicazioni preferite, che è una cosa che ogni desktop environment moderno dovrebbe avere. Abbiamo poi i porting alle QT 6. Bene sì, l'XQT 2.0 sarà la prima versione dell'XQT che sarà basata sulle QT 6. Verranno abbandonate le QT 5, perché il team di sviluppo dell'XQT è piccolino, quindi o si dedicano a una cosa o si dedicano all'altra. Lo stato di avanzamento del porting alle QT 6 è disponibile sul link che vi lascio in descrizione sul blog, quindi se ci cliccate sopra potete andare a vedere a che punto stanno. E trovate anche poi sul blog uno screenshot che vi fa vedere un po' come è questo LXQT 2.0 basato sulle QT 6. I temi lascio un po' a desiderare, però. Diciamo, fa il suo come desktop environment. E poi una delle cose che ovviamente ci si aspetta dalla nuova versione di LXQT è il supporto a Weyland, come tutti quanti i desktop environment stanno migrando e stanno offrendo il supporto a Weyland. Il porting alle QT 6 contribuisce a avvicinarci allo sviluppo, cioè a guadagnare il supporto completo a Weyland. Molte applicazioni e componenti di LXQT funzionano già perfettamente su Weyland, però il lavoro è ben lungi da essere terminato, perché c'è ancora tanta roba che non funziona perfettamente, e tanta roba invece che non funziona proprio per niente. Sempre sul blog trovate anche uno screenshot che vi mostra quali sono le componenti che attualmente sono supportate da Weyland, anzi c'è anche poi la comparazione tra quelle che sono migrate completamente da LXQT e quelle che supportano Weyland. Ovviamente il team di sviluppo di LXQT ci tiene a farci sapere che la filosofia di LXQT, cioè quella di essere modulare, non cambierà con Weyland. Potremmo avere diversi compositi, gestioni di finestra, e attualmente quello più papabile, quello che dà i risultati migliori, è LabVC, che detto così, LabVC sembra molto un accessorio per il cesso. Però è un componente, lì siamo andati a cercare LabVC, andatevi a vedere. Onestamente non lo conosco, perché conosco gli altri che sono stati nominati, Weyfire, KQ Weyland, però LabVC mi mancava come compositor. Va bene. Se siete appassionati di LXQT, quindi non dovete aspettare molto per poter metterci su le mani. E infine, chiudiamo la puntata con un fattaccio. Con un fattaccio, perché dico con un fattaccio? Perché, nuovamente, lo app store di Canonical è stato preso di mira da malintenzionati, in questo caso da Crypto Scammer. a distanza di pochi mesi dal precedente incidente di sicurezza, vi ricorderete, ne avevo parlato lo scorso settembre, perché sullo Snap Store erano stati scoperti delle applicazioni malevole che avevano rubato fondi dagli account degli utenti, in questo caso applicazioni crypto, e nuovamente è stata vittima lo Snap Store di un'applicazione finta, ufficiale, che andava a gestire portafogli di criptovalute, e un utente, un malcapitato utente, ci ha rimesso soldi, ci ha rimesso parecchi soldi, così sembra, dalle prime notizie, si è trovato il portafoglio completamente svuotato, ha fatto anche la denuncia, se andatevi poi a leggere sul forum di Snap Craft, addirittura c'è stata messa in contatto con l'FBI, minchia ci sta mettendo tantissimo a caricare la pagina, dicevo quindi è una cosa seria, c'è un provvedimento, c'è una denuncia in corso da parte di questo malcapitato utente, e che dire, pensavamo che Canonica ci avesse messo una pezza a questo problema, perché la scorsa volta avevano detto che per cercare di mitigare il problema aveva deciso di imporre un requisito temporaneo di revisione manuale su tutte le nuove registrazioni di Snap, però a quanto pare questa soluzione non è una soluzione che può risolvere questo problema, perché la gente continua, i malintenzionati continuano a caricare applicazioni malware e quant'altro sullo Snap Store andando a far cattiva nomea allo Snap Store e andando a truffare ignari utenti di Ubuntu. Dopo questo incidente di sicurezza addirittura è intervenuto anche Mark Shutterworth, il patron di Canonical in persona, che ha pubblicato un post sul forum di Snapcraft. Mark Shutterworth ha dichiarato che il team di Canonical che si occupa dello Snap Store sta lavorando una serie di iniziative per mitigare oppure ridurre il rischio di queste applicazioni anche se stando alle sue dichiarazioni è un problema abbastanza complesso in quanto le applicazioni di fatto andrebbero non soltanto verificate al momento in cui vengono caricate per la prima volta ma andrebbero caricate ad ogni aggiornamento scusate andrebbero verificate ad ogni aggiornamento quindi capite bene che è una cosa un po' difficile da fare che allungherebbe i tempi di pubblicazione di aggiornamenti sullo Snap Store di nuove versioni dei software e sì una bella gatta da operare chissà come che cosa riusciranno alla fine per trovare la quadra per riuscire a arginare il problema perché effettivamente una cosa del genere di andare a verificare di volta in volta ad ogni aggiornamento se l'applicazione ospita codice malevolo sarebbe un bel problema vi dicevo sia perché renderebbe la pubblicazione di nuove versioni degli applicativi ma sì perché significerebbe per Canonical dove mettergli dei cani da guardia passatemi il termine che devono andare a verificare quindi ci vuole anche un esborso economico da parte di Canonical per controllare appunto tutte quante le applicazioni addirittura alla fine si si pensava anche che rimane di mettere una fila di carte di credito per insomma per verificare il tutto vediamo poi alla fine Canonical che cosa farà un'altra delle soluzioni prospettate da Mark Shotgood per risolvere il problema è quella di chiedere una prova più completa dell'identità di ogni editore che intende pubblicare la propria applicazione sulla snap store quindi ci sono diverse soluzioni che potrebbero mitigare il problema ripeto vedremo come finirà la faccenda oltretutto poi questa questa vicenda mi ha fatto anche andare a capire perché mi sono poi documentato che un problema simile potrebbe esserci anche di fatto su su flat tab perché perché su flat tab in effetti come potete vedere qui cioè io posso caricare un'applicazione posso impersonarmi che sono lo sviluppatore tra i dettagli che sta caricando l'applicazione ufficiale per portafogli exchange per editor video per qualsiasi cosa poi sta ovviamente al legittimo sviluppatore dell'applicazione andare a verificare che la sua applicazione non sia stata pubblicata da un terzo su flat tab e andare a segnalare il tutto per riappropriarsi diciamo così del software quindi è una bella gatta de veraio questo tipo di applicazione mi fa pensare che avevano ragione tutti quanti quei barba bianchi scusate il termine di vecchi utenti navigati di 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 linux che dicevano alla fine si sa il miglior sistema per avere un'applicazione certa per avere un'applicazione controllata è quella di di affidarsi ai ripositori delle distribuzioni ai ripositori principali delle distribuzioni quindi evitare di utilizzare store alternativi quindi flat pack snap app image e rivolgersi anche i ppa di terze parti su ubuntu perché questa è un'altra cosa che spesso viene sottovalutata o i ripositori aggiuntivi per open source alla fine conviene sempre affidarsi alle versioni dei ripositori perché quelle sono le più controllate sono quelle anzi che sono sicuramente controllate prima di essere caricati nei ripositori della distra un problema simile e faccio anche ne approfitto per fare una tiratina dove perché molto spesso si sentono gli utenti arch e dicono la mia distribuzione è immune anche arch è al rischio di attacchi malevoli di applicazioni malevole perché semplicemente io carico su aur un'applicazione e tu la vai installare magari può passare inosservata perché la gente si fida si fida troppo delle applicazioni presenti su ar e magari puoi installare anche in quel caso codice malevolo quindi badate bene sempre a quel che state installando sul vostro sistema è una cosa che gli utenti windows oramai hanno capito perché si è anche ridotto un po' diciamo così il piratare applicazioni a destra e a manca proprio perché appunto su windows applicazioni piratate crack e contatto ci si ritrovava in casa la monnezza più totale su winox noi siamo un po' meno abituati diciamo perché magari ci fidiamo non pensiamo che è stato pubblicato sullo stop solo è stato pubblicato su flat tab è stato pubblicato su app ci sarà magari qualcun altro che la va controllato perché noi ci fidiamo perché siamo noi utenti linux diciamo siamo brava gente che non pensa a truffare gli altri e quindi ci aspettiamo che il mondo reagisca di conseguenza però il mondo in realtà è fatto da tante persone delinquenti cattive e quant'altro quindi state sempre attenti anche su linux a quel che installate al di fuori dei repository della distro anche comandi che date spesso e volentieri c'è gente che magari fa copia e colla di comandi presi su siti su form e quant'altro senza andare e manca a capire che cacchio stai che cacchio sta facendo quindi sempre attenzione e beh con questa ultima notizia si conclude qui questa centosettantesima puntata del podcast di marcosbox sto per dire seguitemi sui social però seguitemi sui social responsabilmente seguitemi magari una volta la settimana andatevi a vedere una volta al giorno quindi diciamo social con moderazione mi trovate su facebook mi trovate su x mi trovate su youtube dove trovate le puntate mi trovate su linkedin che è il mio profilo personale mi trovate su mastodon trovate il podcast sulle principali piattaforme di podcasting e trovate poi su telegram mi trovate con tre canali il canale telegram dedicato alle notizie del marcosbox la community telegram dove potete scambiare e parlare di qualsiasi cosa che vi passa per la testa non soltanto di linux e trovate poi il canale telegram dedicato alle offerte che potete utilizzare per supportare il sito internet sapete bene come funziona la faccenda voi acquistate da uno dei miei link il referral di amazon e una piccola percentuale amazon me la darà me la restituirà la darà il sottoscritto davvero piccolo le percentuali sono veramente misere e il sottoscritto potrà utilizzare per implementare l'attrezzatura e quant'altro vi ricordo poi che potete anche supportarmi acquistando una vpn come nordvpn che in questo periodo sta facendo alcuni sconti davvero interessanti che poi trovate nel link in descrizione e con questo spero di vi aver detto tutto per questa puntata lunga vita e prosperità e ci riaggiorniamo la prossima puntata speriamo fra sette giorni o fra quindici giorni ma sapete che questi sono i tempi ciao ciao